L'artista di Stensilis, buona giornata a tutti, oggi è una poesia tremendamente bella, un po' un prendere atto, rammento, ricordo, cioè un po' quelli che sono i ricordi, quasi venire a ognuno di noi, ripeto in base magari emozioni personali in base a ciò che ci viene raccontato e quant'altro. C'è una foto digitalizzata di un cuore con una chiave, quasi come se si cercasse magari di aprire il cuore, aprire le emozioni, la ricerca di emozioni trascorsi e passati, quello che volete, fondamentalmente a cosa serve quella chiave, a cosa serve quel cuore, qual è la, diciamo, l'inerenza fra entrambi, la comunanza e quant'altro. Lo vediamo assieme. Rammento, rammento i sorrisi copiosi di buon mattino, rammento quei saltelli unici quasi fossero comparse, mai occasionali, del folcloristico arlecchino, rammento visi cere aghi nelle vene ad una distanza siderale, rammento, strade bui e fare intermittenza una traversa stretta e occasionale, rammento così strappate e collane frantumate su un polveroso cruscotto, rammento tonnellate di carote a dadini, esclusivamente preparate per Babilorsetto, rammento dolori acuti per saccenti rose che nascondevano spinodiose, rammento silenzi vetrosi tra onde tumultuose, rammento cortine di fumo grigiasto un po' dappertutto, rammento il neomelodico partenopeio dal nostalgico sapore e talvolta amabile tratto, rammento il carcere di forni ma senza arance e sigarette, rammento le offese gratuite alle perduranti etichette, rammento la curla strido leggera della sera, rammento copiosi pianti e consunte candele in biancastra cera, rammento un volgare spute, vite di poco gradibile e persino naturale, rammento un cuore schiantato su ruvido scoglio perché troppo convinto di aver messo le armi con un posto nostalgico, molto riflessivo e profondo e a contatto. Signori miei cosa vuole dire tutto ciò, rammento o ricordo fate voi, è un po' una storia spremute di cuore, un po' in giro se ne sentono un po' tante, un po' quelli che sono i sorrisi, i sorrisi, le telefonate di buon mattino, magari a chi gli è potuto capitare, trascorsi i passati, i sorrisi di buon mattino, le chiacchierate, le piacevolezze, il saltello è l'occasionale, mai l'occasionale dell'incontro, quasi come se di fronte avessi Arlecchino per la piacevolezza di incontrarsi, spesso e volentieri il viso cero, il viro biancastra, il viso biancolato, quindi la sofferenza è incarnata e l'ago continua nelle vene, diciamo, tra le altre cose ha una distanza notevole, quindi persone che hanno sofferto, hanno avuto un po' di problemi e quindi magari, sai, quella distanza che in quello specifico o frangente, temporale, magari anche emozionale, era particolareggiato, chiaramente sono cose del passato che non esistono più. Tra l'altra cosa, rammento, ricordo quelle strade buie, strade traverse buie, traverse fredde, laddove c'era il fare intermittenza, magari, non so, dove c'era l'incontro occasionale, quell'incontro, diciamo, che non è un qualche cosa, diciamo, di quotidiano, d'ogginale e quant'altro. Rammento, la poesia strappata sul cruscotto, sul polveroso cruscotto, lì dove c'era anche la collana frantumata, sullo stesso polveroso, il cruscotto, in più delle volte, insomma, nero pesce e quant'altro. Quindi un pochettino, io credo che una collana frantumata e una poesia strappata, sia un pochettino anche un cuore contrito o un'emozione mai nata e un parallelismo molto particolareggiato per indicare un pochettino le cose che non hanno mai avuto, diciamo, una loro struttura adeguata di riferimento. Rammento, tornerate di carote, vabbè, preparate per Babi l'Orsetto, insomma, chi poi è amante delle carote, ne mangi in quantità industriale. Nel quanto al caso qui si parla di una persona strutturata, Babi l'Orsetto, ok. I dolori acuti, i dolori acuti perché più che la, diciamo, vedevi la saccente rosa che nascondeva l'odiosa spina, è molto provocatore perché poi c'è la rosa che è tanto bella, non è molto presuntuosa, presuntuosa, che nasconde l'odiosa spina dei comportamenti ondivaghi, dei comportamenti che poi non sono, diciamo, chiari, noti, quindi molto molto malcelati, occultati e quant'altro. E ti rimane nella mano l'odiosa spina che magari udieni per un bel po' e hai dolore, spesso e volentieri, anche per un bel lasso di tempo. Poi non è che poi le spine cadono, diciamo, velocemente, molte volte quando entro dentro un problema. Rammenti, vetrosi, silenzi, tra le tumultuose, che significa? Ecco, un silenzio vetroso chiaramente è una metafora, un silenzio è un qualche cosa di sottaciuto, diciamo, è vetroso quando punge, quando fa malo, quantomeno non ti aspetti che ci sia, lasci il tempo che trova, però sai, non è mai una bella cosa. E crea onde tumultuose, cioè non solo c'è un silenzio, però crea comunque un distacco, perché per certi versi, ripeto, c'è anche l'onda che ti arriva addosso di soppiata ed è un'onda tumultuosa, un'onda comunque alla fine, infine, mai arrendevole. E quant'altro. Il frumo grigiasta dappertutto, quindi spesso mi trovo tra tanti contesti, il dolce fumo dappertutto, quindi, vabbè, questo è un po', l'abbiamo aggiunto. Ecco, il neomelodico partenopeo, il neomelodico partenopeo che è spesso e volentieri nostalgico, può essere amabile, amorevole, splendido e quant'altro, ma non sempre è così, quindi c'è un riferimento a quello che è il neomelodico partenopeo. Il riferimento, insomma, diciamo, topografico e quant'altro, al carcere di forni, ma non necessariamente il riferimento al carcere, fra gli pacchetti di sigarette, le arance, quindi non ci sono né spremute di cuore né spremute di arance, signori miei, quindi chiaramente è una metafora abbastanza provocatoria. E quindi l'offese è gratuito delle perdanti etichette, nel senso che spesso e volentieri, quando poi esci da un contesto di piacevolezza, non sei più la stessa persona per qualcun altro o qualcun altro, cioè nel senso che non sei più una brava persona, non sei più educato, magari non sei più un signore, non sei più colui che si è comportato sempre da cavalier, servente e quant'altro. Qui sono le etichettature e le offese, gratuite a buon mercato. Le urla stridule. Le urla stridule ci sono quando magari non c'è condivisione, quando ci può essere un sentimentalismo che non è mordi e fuggi, e lì c'è anche il parallelismo che fa anche male il gelo della sera. Il gelo della sera è un gelo che non è soltanto un gelo atmosferico, ma può essere anche un gelo interiorizzato, quindi una sofferenza catramata all'inferosimile. Rammendo i pianti copiosi, pianti copiosi corrosivi, chi soffre e sta male piange, certamente non sorride, e queste candele, diciamo, candele consumi bianca stracina, quindi queste candele che si consumano lentamente, diciamo, al chiarore della sera, un po' come se vogliamo ti consumassi tu come persona, non mangiano, bevi, soffri, perché non vedi, diciamo, come riferimento un miglioramento di una situazione che ti sembra un pochettino, insomma, strana, ogni dirò che quant'altro. Ecco, questa è una cosa che fa un po' male, rammendo uno sputo, volgare uno sputo è sempre un qualche cosa che non va. Io credo che chi magari, nella propria vita, non l'abbia mai fatto, e lo fa per una persona a cui magari, presumibilmente, ha voluto bene, non è bene una bella cosa. Bisogna accettare le cose che non vanno, le cose che non hanno un buon fine, spesso volentieri quando c'è uno sputo è un qualche cosa di volgare, e chiaramente, così come lo è l'epiteto, che è gradivo, innaturale. È brutto quando tu ti senti innaturale, non sei tu, sei diventato un'altra persona, perché magari la sofferenza ti ha, diciamo, è una benda sugli occhi, non vedi più nulla, e quindi fai delle cose che sono deplorevoli, deprecabili, incomprensibili, inadeguati, ingiustificati, e gli altri. L'aggettivazione le aggiungete voi. E rammendo quindi questo cuore, sofferenziale, contrito, insomma affannoso, eccetera, eccetera, che si va a schiantare contro uno scoglio, uno scoglio ruvido, uno scoglio, diciamo, che è spigoloso, perché probabilmente troppo convinto di se stesso, di aver messo le ali, un pochettino come anche, se volete, i gabbiani, gli uccellini, quello che volete, anche dai piccoli, cominciano a volare, non tutti riescono ad arrivare, a toccare le ceruleacque, perché tanti si schiantano sugli scogli. L'artista esistenzialista, piccola postilla, raccontiamo di noi, raccontiamo degli altri, e la cosa bella è che qualunque cosa ci sia accaduto, signori miei, il bello è che le cose ci accadano, per poterle raccontare, agli amici, ai parenti, ai nipoti, ai figli, a quelli che verranno dopo, perché ripeto, noi, a prescindere delle cose, vadano bene, male, o quant'altro, senza emozioni, credetemi, ve lo dice una persona a cui piace fare arte, raccontare di sé, degli altri, eccetera, non saremmo nulla. L'artista esistenzialista, buona serata a tutti.